Benvenuti su Reality Italiano. Mamma Rai ha deciso di stupirci tutti con una scelta a dir poco audace. Famosa per i suoi programmi seri e impegnati, ha sorpreso il pubblico aprendo le sue porte a una figura spesso discussa e sempre amata. Soleil sorge. Conosciuta per la sua partecipazione al Grande Fratello Vippe e ad altre trasmissioni televisive, Soleil ha sempre dimostrato di essere se stessa, senza filtri e senza paura di essere giudicata. È proprio questo suo caratterino che l'ha resa una figura amata da molti e un po' temuta da altri. Ma la vera sorpresa è stata la sua partecipazione a un programma Rai che dal 2020 cerca di affermarsi cambiando ogni anno nome, ma tutti gli anni conferma il poco seguito, felicità. E sì, il titolo cambia ogni anno, ma ciò che non cambia è il fascino e la grinta di Soleil. Pronta a donare nuova linfa al programma con la sua presenza scintillante e con una punta di stronzaggine. Ma prima di conoscere cosa pensa Soleil metti un like ed iscriviti al canale, grazie. Amo me stessa, mi rispetto appieno e pretendo lo stesso trattamento dagli altri. E se tutto ciò mi rende una stronza, beh, lo ammetto senza riserve. Sì, sono una str asterisco nz. Soleil sorge curerà ben due tematiche. Niente di meno che il cinema, accanto al rinomato Enrico Vanzina, e il benessere e la salute con il famoso professor Lorenzetti. Che dire. Soleil sa come mettere le carte in tavola. L'ingresso trionfale di Soleil sorge in Rai ha lasciato tutti a bocca aperta. In questi mesi, ha suscitato innumerevoli dibattiti, la sua saga sentimentale con Alex Belli e Delia Duran nel Grande Fratello Vip, la partecipazione all'Isola dei Famosi. E poi la spregiudicata opinionista in La Pupa e Il Secchione, e infine, come padrona di casa indomabile del GF Vip Party. Soleil, senza mezzi termini, possiede una personalità ben definita e la sbandiera con fierezza. Così, con un sorriso sormione sulle labbra. Soleil ci ricorda essere una stronza non è necessariamente una nota negativa, ma è un'affermazione di sé, rifuiutando le maschere sociali e mostrandosi veri e reali, come lei è veramente. Ed è proprio questa incrollabile fiducia in sé stessa e il coraggio di essere autentica e un po' stronza che rende Soleil sorge un vero e proprio fenomeno televisivo e un esempio affascinante per molti.